e avanti con un altro ricordo intanto è arrivata la rendita alla villa stiamo veramente riempiendo la pancia di soldi non l'ha fatto neanche bussare posso offrirti qualcosa biscotti un caffè cos'è il caffè un preparato interessante me l'ha portato un mercante turco prego massaggio schifo il caffè mi fa schifo un po amaro se posso dire sembra che manchi qualcosa non so hai pensato di aggiungere dello zucchero o latte immagino che ci si debba fare l'abitudine bando alle cence che stavamo dicendo molto interessante il modellino la sconfitta al palazzo ci è costata cara ci vorrà tempo per riprendersi e meglio ne approfitterà per rafforzare le sue difese e continuare opprimere il sestiere abbiamo lo stesso scopo anche se per ragioni diverse perché non unite le forze e ci riprovate agire in fretta causerebbe solo altre perdite dobbiamo rifornirci e ideare nuovi piani ma io non posso stare qui ad aspettare ne voglio che tu lo faccia come se brutto ezio negli abiti di alta ira i miei uomini si stanno già riprendendo ma da loro ti metteranno all'opera prima gli ebrai aiutati prima potremo colpire molto bene antonio accetto saggia decisione elementi base e a sto punto andiamo da lei salute rosa vedo che sei in via di guarigione come già te lo voglio buttare in tutti i buchi che ho questo lo porto da lei in realtà ma non lo dirà mai va bene posso farlo cioè io non posso ma franco si che è franco muovi il culo mostra a ezio come si arriva in cima a quell'impalcatura salto ascensionale ho fatto questa missione apposta inizia in posizione appesa poi salta verso la sporgenza appena ci arrivi afferrala bene e spingiti in alto ecco visto come si fa sì credo c'è solo un modo per saperlo provaci su guarda e impara salta ezio vabbè una cazzata assurda afferra la sporgenza all'altezza del salto beh com'era ho visto di meglio dai stronza mi riferisci con queste tue crudeli parole va bene smargiasso mettiamo alla prova le tue abilità ti ascolto vediamoci davanti ai frari ai frari andiamo ai frari e infatti 2000 per aver fatto un cazzo ok infatti i frari è quella basilica dove c'è quel punto di rosservazione che non mi riusciva a sincronizzare tutto torna facile grazie